Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Quest'oggi siamo qui per recensire un monocolare veramente molto speciale perché ci permette di trasformare la telecamera del nostro smartphone in un vero e proprio binocolo. Lo andremo a scoprire tutto subito dopo la sigla. E quindi benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Ringrazio in anticipo l'Apexel che ci ha fornito questo monocolo e più nello specifico il 6X20. Stiamo parlando di un monocolo a tutti gli effetti professionale da utilizzare con i nostri smartphone. È compatibile con la maggior parte degli smartphone adesso in commercio ma soprattutto attraverso le lenti al suo interno che sono veramente dettagliate e in altissima definizione sono fatte veramente molto bene potremo addirittura acquisire foto e video in altissima risoluzione senza perdita di qualità. Ed essendo che al suo interno ci sono lenti in altissima definizione non avremo distorsioni né desaturazioni riguardante i colori. Ma ora andiamo ad aprire il pacchetto. Il pacchetto si presenta veramente molto bene ma soprattutto non tanto la nostra scatola ma bensì il cofanetto al suo interno. Come vedete è un astuccio dove al suo interno ci possiamo trovare il monocolo ci possiamo trovare lo strascio per pulire le nostre lenti e soprattutto l'aggancio universale per il nostro smartphone. Agganciare la nostra lente è veramente veramente facilissimo. Infatti basterà svitare questa vite di sicurezza che abbiamo qui per sbloccare la nostra molla andiamo a svitarla quasi completamente scegliamo la fotocamera che dobbiamo utilizzare ovviamente se avete un telefono simil mio con diverse fotocamere scegliamo quella in alta definizione andiamo a bloccare e attraverso questo cursore possiamo anche switchare in caso che non abbiamo la fotocamera ben allineata. Una volta che sarà allineata possiamo chiudere il nostro dispositivo con questa molla e saremo subito pronti ad utilizzare il nostro binocolo. Andiamo a prendere il nostro binocolo e lo andiamo ad avvitare nel suo alloggio. Una volta fatto il nostro binocolo sarà subito pronto e sarà collegato esattamente sopra la fotocamera. Bene siamo pronti a fare il test video ufficiale in questo momento le immagini che state vedendo sono direttamente registrate dal mio smartphone in h265 in full hd come vedete le immagini a livello di dettaglio sono veramente assurde ha un dettaglio in centro che è veramente stupendo ovviamente come notate tutto il resto del video viene bordato ma questo purtroppo per un limite della nostra lente ma è tutto nella norma tutti gli obiettivi di questo genere avranno sempre questa bordatura questi sono ottimi anche per esempio per fare foto alla luna piuttosto che altro adesso vi faccio invece vedere un dettaglio più lontano perché adesso vi sto facendo vedere un dettaglio con messa a fuoco vicino a 5 metri come vedete fa un ottimo sfocato andiamo più in lontananza andiamo verso questo palo della luce che come vedete è veramente molto molto alto ma soprattutto la fortuna vuole che in questo momento sta passando un elicottero infatti ci speravo che ci passasse e infatti eccolo là adesso ve lo mostro vediamo se riusciamo a prenderlo in diretta ovviamente voi vedete tutto alle mie spalle perché ecco guardate adesso io in questo momento sto facendo la ripresa con questo cannocchiale ed è veramente veramente ben definita devo dire soprattutto ovviamente dipende se registriamo in 4k 8k per i nuovi dispositivi tipo xiaomi 11 che registra addirittura in 8k però per ad esempio il mio smartphone che funziona in 4k le immagini qualitativamente sono buone adesso passiamo a un'altra funzione sempre del mio smartphone per eliminare un pochettino i margini e fare l'effettivo test video ma adesso passiamo al secondo test effettivo quello senza i margini non è stato tagliato in post produzione è sempre la seconda telecamera del mio smartphone che è quella da 2x e adesso andiamo a vedere più nel dettaglio com'è qualitativamente l'immagine e devo dire che è veramente veramente stupenda cioè l'immagine e le lenti al suo interno come vedete non hanno distorsione di colore a differenza di altre lenti che creano aloni verdi e viola questa lente non dà quel problema ovviamente la messa a fuoco è veramente molto molto delicata la stabilizzazione è quella che è però come potete vedere le immagini qualitativamente sono veramente veramente ottime infatti riusciamo addirittura a fare una macro sui rami piuttosto che altro e questo binocchio è veramente eccezionale ma non solo andiamo a vedere a livello di foto com'è beh che dire ragazzi a livello di foto è veramente eccezionale cioè ha un dettaglio che proprio non viene influenzato dalle lenti interne del nostro obiettivo ma quello che entra nelle lenti va direttamente al sensore del nostro telefono quindi il dettaglio è veramente veramente ottimo beh che dire ragazzi questo monoculare è veramente ottimo il dettaglio di questo dispositivo abbiamo fatto diverse foto e come avete visto anche l'aereo che prima magari si vedeva più in lontananza in modalità fotografica è veramente veramente stupendo quindi ve lo consiglio assolutamente questo obiettivo vi lascio il link in descrizione e ci vediamo a una prossima puntata della Computer Museo ciao